Risorse pari a 36 milioni di euro destinate alle aziende siciliane per la realizzazione di investimenti che favoriscano l'innovazione, il trasferimento tecnologico e la riconversione dei siti produttivi. Il presidente della regione siciliana Renato Schifani e l'assessore alle attività produttive Edi Tamayo hanno presentato questa mattina a Palermo, a Palazzo d'Orleans, la misura Ripresa Sicilia, una delle quattro linee di intervento all'interno del più ampio programma Competitività Sicilia. Erano presenti anche il dirigente generale dell'assessorato Carmelo Frittitta e il direttore generale dell'IRFIS, Calogero Giulio Guagliano. Questo avviso pubblico, ha evidenziato il governatore Schifani, punta ad adeguare il nostro sistema produttivo agli standard europei e a renderlo sempre più efficiente e competitivo. È uno dei tanti interventi che stiamo mettendo in campo per il tessuto imprenditoriale dell'isola. Soddisfazione ribadita anche dall'assessore regionale alle attività produttive Edi Tamayo. Abbiamo avviato questo percorso, un pacchetto chiamato Competitività Sicilia, diverse misure per un totale di 105 milioni di euro inizialmente, che possono andare a mettere liquidità intanto nel sistema e aiutare l'azienda nel campo della ricerca, nel campo dell'innovazione, nel campo dello sviluppo tecnologico. Abbiamo cercato di attivare queste misure attraverso anche l'IRFIS per dare una mano alle aziende. La misura si chiama Ripresa Sicilia, quindi è un modo per cercare di far riprendere le aziende dopo il periodo del Covid. Ripresa Sicilia ha una dotazione finanziaria complessiva di 36 milioni di euro, 16 milioni provenienti dal Fondo di Sviluppo e Coesione 2021-2027 e 20 milioni dal POC 2014-2020. I beneficiari dei finanziamenti sono le piccole e medie imprese dell'isola in forma singola o associata. Sono previste agevolazioni tra finanziamento a tasso zero della durata massima di 12 anni e contributi a fondo perduto sino al 75% dell'investimento per programmi di spesa tra i 400 mila e i 5 milioni di euro. Le istanze potranno essere presentate online sulla piattaforma dedicata attiva dal 1 marzo incentivisicilia.irfis.it. Queste misure di cui ho parlato poc'anzi sono delle misure importanti per le aziende, il bonus energia è un sostegno ulteriore per le aziende. Stiamo cercando di mettere liquidità nel sistema utilizzando i POC, gli FSC, tutte queste misure, questi fondi che vogliamo spendere per dare una mano alle aziende e non non spenderli per farli ritornare in Europa. Questa, ha spiegato il direttore dell'Istituto Guagliano, è la prima iniziativa di ripresa degli investimenti, una vera e propria scommessa in un momento come questo. Abbiamo stabilito dei tempi definiti nell'esame delle richieste, al massimo 90 giorni, perché vogliamo dare garanzia alle aziende.